Bruno Gröning, io voglio solamente aiutare e guarire. La vita di Bruno Gröning, per bambini, giovani e adulti. Capitolo 7. Nuove vie. Il giornalista dottor Kurt Trampla arrivò nel 1949 come cronista al Trabahov e ricevette, cosa per lui completamente inaspettata, una grande guarigione. Come ringraziamento scrisse il libro Il grande cambiamento e si mise in ogni modo a completa disposizione di Bruno Gröning. Lo ospitò e, tra il 1950 e il 1951, organizzò per lui delle conferenze nella pensione Weikersheim a Grefeling, vicino a Monaco. Continuano a verificarsi ancora molte guarigioni. Così come presso Enderling, anche le conferenze a Grefeling erano ben frequentate. Avvennero molte guarigioni. Divenuta più tardi una buona amica di Bruno Gröning, Annie Frein Ebner von Eschenbach partecipò a molte di queste conferenze, annotando fatti di cui lei fu testimone con Bruno Gröning. Ecco qui di seguito un passaggio. Durante i suoi discorsi successero in ogni angolo della sala degli avvenimenti. Persone che gettavano via le loro stampelle e andavano verso Gröning con espressioni radiose e felici sul volto, gridando «Io posso camminare di nuovo, senza bastone, senza dolore!» e poi uscivano dalla stanza andando su e giù per le scale. Gli arti, ormai diventati rigidi, si sarebbero in questo modo sciolti. Qualcuno a volte, uomo o donna, voleva regalare a Gröning le proprie stampelle, ma lui diceva «Dovrei allora possedere un camion». Spesso Gröning spezzava i bastoni, a volte grossi come un pugno, come fossero fiammiferi. Un giorno sedeva in seconda fila, una giovane donna con il viso triste e scarno, con una bambina di circa nove anni, quando Gröning le domandò «Allora, mammina, cosa sente?» Lei rispose «Purtroppo niente, signor Gröning». «Su, mammina, non guardi sempre indietro al passato. Il terrore che ha avuto è ancora in lei. Lo deve prima lasciare andare». Fu durante un bombardamento. Lei si trovava in una specie di baracca in giardino e venne sepolta dalle macerie. Era all'ottavo mese di gravidanza. Quando venne salvata, nacque la bambina ed era cieca. È giusto? La donna, sorpresa, rispose «Sì, è esatto». E Bruno Gröning proseguì «Su, via dunque. Non pensi più a quei terribili tempi. Creda fermamente nell'aiuto di Dio e preghi. Non ha bisogno di portare sempre la bimba con sé se solamente lei crede fermamente». Otto giorni più tardi la madre era di nuovo presente. L'espressione, piena di preoccupazione in volto, era scomparsa. Era letteralmente ringiovanita. Quando venne interrogata da Gröning, lei rispose «Sì, oggi mi pervade un calore e mi sento felice e liberata». «Bene, mamma, rimanga così e presto arriverà il momento». Una settimana più tardi la donna era di nuovo presente e Bruno Gröning, nel bel mezzo della conferenza, andò verso di lei e disse «Mamma, giovedì alle ore 17 e 20 prenda la sua bambina e la conduca in una stanza buia. Lei riacquisterà la vista. Ma siccome non conosce né forme né colori, si potrebbe spaventare e dallo spavento si potrebbe ammalare. L'abitui lentamente a tutto ciò che la circonda». «Siccome in questo caso mi interessava in modo particolare, me ne informai e poco più tardi venni a sapere che coincise tutto perfettamente, al minuto, come aveva predetto Bruno Gröning. Dopo qualche anno chiesi direttamente allo stesso Bruno Gröning della bambina e mi rispose che vedeva normalmente come se non fosse mai stata cieca. Trampler diventa lui stesso un guaritore. Tra Kurt Trampler e Bruno Gröning si instaurò un legame di profonda amicizia, ma anche questo legame si spezzò. Un giorno a Trampler venne l'idea di poter guarire lui stesso e di non avere più bisogno di Bruno Gröning. Pensava di aver imparato sufficientemente da Gröning, si separò da lui e si mise in proprio, come guaritore, disse persino. Bruno Gröning è un principiante rispetto a me. Trampler diede gli esami come naturopata, si presentò come guaritore ed incominciò a denigrare e a diffamare Bruno Gröning. Bruno Gröning non intraprese niente contro Kurt Trampler e mantenne da parte sua una profonda amicizia. Alla domanda di alcuni cercatori di guarigione che, confusi, chiedevano da chi dovessero andare, se da Gröning o da Trampler, egli rispose. Fino a che gli uomini non hanno accesso a me, io do loro la forza. Il primo grande processo Dopo che le autorità in Baviera nel 1949 dimostrarono la loro benevolenza verso Bruno Gröning e che il ministro degli interni bavarese definì perfino il suo operare come libera attività d'amore, questo atteggiamento positivo cambiò nel 1950. Soprattutto gli intrighi di Otto Meckelburg avevano danneggiato, anche presso le autorità, la buona fama di Bruno Gröning. Nel settembre del 1950 gli imposero anche in Baviera il divieto di guarire. Nuovamente lo accusarono di aver infranto le leggi che regolano l'attività dei naturopati, nel senso di aver guarito persone pur non potendolo fare. Venne perfino allestito un processo contro di lui. Nel 1952 arrivò il momento. Bruno Gröning venne condotto davanti al giudice. Come deve essere stato umiliante per lui, che ha fatto sempre di tutto per aiutare i sofferenti senza mai pensare a se stesso, non pretendendo mai soldi dagli ammalati, venire accusato proprio per questo. Fu trascinato davanti ai giudici perché aveva aiutato la gente. Nel marzo 1952 fu annunciata la sentenza e Bruno Gröning venne assolto. Ma il pubblico ministero che lo aveva incriminato non accettò la sentenza e presentò ricorso in appello. In luglio si ebbe di nuovo un processo e nuovamente Bruno Gröning venne dichiarato innocente. Andò bene, ma le argomentazioni non erano giuste. Il giudice disse che Bruno Gröning aveva sì infranto le leggi che regolano la professione dei naturopati, ma che non lo sapeva e non lo aveva fatto intenzionalmente. Per questi motivi lo aveva assolto. Da quel momento in poi però Bruno Gröning ne era consapevole e ciò significava che non avrebbe più dovuto farlo. Questa assoluzione fu per lui un rinnovato divieto di guarire. L'esame da naturopata? Dopo il processo Bruno Gröning cercò infaticabilmente nuove possibilità, nuove strade per poter aiutare gli infermi e per poter adempiere alla sua missione e vocazione senza entrare in conflitto con la legge. Era persino disposto a sostenere gli esami per diventare naturopata e questo sebbene lui fosse profondamente contrario ad occuparsi delle malattie nelle quali riconosceva solamente il male e a doverlo persino trattare. Il suo operare non aveva assolutamente niente a che fare con le malattie. Per lui si trattava di ristabilire il contatto con Dio e di ripristinare così la via per la salute. Nel 1953 Bruno Gröning presentò a Stoccarda la domanda per l'ammissione agli esami di naturopata. La richiesta fu respinta con un'argomentazione alquanto discutibile. Sembrava che si volesse a tutti i costi reprimere l'attività di Bruno Gröning e togliergli ogni possibilità di operare liberamente. La pillola Gröning Per poter aiutare i bisognosi d'aiuto l'obiettivo costante di Bruno Gröning era sempre quello di costruire delle case di cura. Così scrisse una volta nel 1953. Amici miei, innumerevoli richieste d'aiuto mi arrivano ogni giorno da ogni parte del mondo. Seguirle tutte mi è purtroppo impossibile. È necessario per questo costruire delle case di cura nelle quali io possa ordinatamente operare. Mi è stato offerto anche molto denaro che sono stato costretto a rifiutare. La mia opera è contraria a qualsiasi genere da fare. Io posso accettare aiuto solamente da persone che sono pure di cuore. Una buona occasione per racimolare il denaro per la costruzione delle case di cura si presentò attraverso l'offerta di un certo Rudolf Bachmann. Bachmann propose di costruire un laboratorio biologico dinamico. In questo laboratorio voleva, dietro indicazioni di Bruno Gröning e con la sua collaborazione, fabbricare dei farmaci. Così si sarebbero potuti aiutare ammalati in tutto il mondo e Bruno Gröning avrebbe ricevuto i soldi per edificare delle case di cura. Bruno Gröning accettò la proposta e infatti vennero prodotti dei preparati G52 e L52. Su di essi vennero fatti dei test dalla Clinica Universitaria di Monaco con ottimi risultati. Bruno Gröning scrisse in proposito. Il Ministero degli Interni della Baviera ha concesso la licenza per la produzione di questi medicamenti. Le industrie farmaceutiche hanno grande interesse ai preparati. Fabbriche estere vogliono avere l'incarico per la distribuzione e famose ditte tedesche chiedono di comprare le singole ricette. Quel che successe fu però tutt'altra cosa. Bachmann era un abile uomo d'affari. Mentre Bruno Gröning voleva che i preparati venissero consegnati solo alle farmacie Bachmann li voleva distribuire privatamente e li vendette agli amici delle comunità di Bruno Gröning. Bruno Gröning non poteva essere d'accordo con questo. Gli amici delle comunità avevano già un legame con lui. Sapevano come ricevere l'energia guaritrice e come ottenere la guarigione. Non avevano bisogno di questi preparati. Ma Bachmann in questo vide solamente una possibilità per fare i propri affari. Rudolf Bachmann con questo suo cattivo comportamento danneggiò moltissimo Bruno Gröning. Ebbe bisogno di molto denaro per avviare il laboratorio che Bruno Gröning si fece prestare per lui da molti amici. Ma Bachmann non organizzò le cose così come Bruno Gröning avrebbe voluto. Quando infine lui morì lasciò moltissimi debiti che Bruno Gröning dovette pagare. Invece di ricevere soldi per erigere le case di cura si ritrovò davanti ad una montagna di debiti. L'Associazione Gröning Nello stesso 1953 Bruno Gröning fondò l'Associazione Gröning su incoraggiamento dello stesso Rudolf Bachmann che sperava così in una migliore possibilità di vendita nelle comunità. Queste comunità esistevano già fin dagli inizi degli anni 50. Bruno Gröning le aveva fondate per dare la possibilità ai suoi amici di riunirsi in suo nome e di occuparsi della sua dottrina sulla fede. Di tanto in tanto visitava le singole comunità e teneva conferenze sulla fede. La fondazione della nuova associazione aveva lo scopo di tenere sotto le proprie ali tutte le comunità che venivano così praticamente riunite. Ogni persona avrebbe ricevuto la possibilità di ritrovare la via per la propria salute. L'Associazione si era prefissa il compito di spianare la via per raggiungere le persone bisognose d'aiuto dando ad esse la sicurezza che anche loro sarebbero state aiutate. Inoltre l'Associazione di Bruno Gröning doveva offrire legittimità al suo operare. In essa lui sarebbe comparso solo come oratore tenendo conferenze sulla fede protetto dalla libertà di pensiero garantita dalla Costituzione. Così sarebbe stato evitato definitivamente qualsiasi altro conflitto con le leggi che regolano la professione dei naturopati. Alla direzione dell'Associazione Gröning appartenevano alcune famose e stimate personalità come ad esempio il conte Zeppelin il conte Matuschka e Anni Freynebner von Heyschenbach. Bruno Gröning fu nominato presidente a vita. La direzione degli affari dell'Associazione fu assunta dal direttore Konstantin Weissa e il capo consigliere fu Hermann Ridinger. Sembrava tutto molto promettente dato che la formazione laica dell'organizzazione tornava a vantaggio dell'opera di Bruno Gröning. Si nascondeva comunque anche il pericolo che si sarebbero potuti levare contro di lui ed agire contro la sua volontà. In definitiva erano loro i signori colti e lui era un semplice operaio. Egon Arthur Schmidt Segretario dell'Associazione Gröning diventò il giornalista e curatore editoriale Egon Arthur Schmidt di Heidelberg. Era già stato ad Hereford uno stretto collaboratore scrisse il libro Le guarigioni miracolose di Bruno Gröning e fondò la società Il Circolo degli Amici di Bruno Gröning. Questa società fu però sciolta poco tempo dopo. Nel 1949 Bruno Gröning si separò da Schmidt poiché si rivelò pure lui un attivo affarista e un amministratore infedele scrisse anche degli articoli negativi sul suo conto. In una serie di articoli Schmidt che allora era uno dei più stretti collaboratori di Gröning lo aveva descritto come uno degli uomini peggiori danneggiando così la sua reputazione in pubblico così come fece più tardi Mecklenburg. Nel 1952 Schmidt si rivolse di nuovo a Bruno Gröning asserendo di aver riconosciuto i propri errori di voler riparare e lo pregò di poterlo aiutare nella costruzione dell'opera. Bruno Gröning pur sapendo che tipo fosse Schmidt lo riprese di nuovo come collaboratore. Schmidt ebbe così di nuovo la possibilità di dimostrare se veramente avesse a cuore il bene degli ammalati o solamente i propri vantaggi economici. Purtroppo ben presto ci si avvide che Schmidt non era cambiato. Di nuovo provò soltanto a guadagnare soldi con Gröning di nuovo lo danneggiò con i suoi articoli negativi. Nel 1955 Bruno Gröning si separò definitivamente da Schmidt che da persona vendicativa qual era dopo la separazione intentò molti processi contro Bruno Gröning voleva estorcergli più denaro possibile. Bruno Gröning lo definì una volta come il peggiore e malefico degli uomini. Schmidt fu anche uno di quelli a cui Bruno Gröning si riferì quando disse questi uomini erano necessari perché aiutano a capire com'è l'uomo che l'uomo è senza scrupoli e non si chiede se l'ammalato viene aiutato oppure no. Improvvisamente mi alzai. Nonostante tutte le avversità che Bruno Gröning ebbe in questo periodo nonostante tutte le forze contrarie che volevano sopprimere il suo operare continuarono a verificarsi meravigliose guarigioni. Così racconta Giselach-Nolman Non avemmo paura di affrontare né sforzi né costi allorché il medico mi diagnosticò un'ernia al disco ma tutto fu inutile potevo stare distesa solamente in una posizione potevo camminare molto poco e curva e non potevo quasi più lavorare mi aspettava la sedia a rotelle allora venne Gröning da me non fece nient'altro che predicare dopo un po' di tempo sicuramente era trascorsa mezz'ora pensai sì è tutto molto bello quello che dice ma lo posso fare anch'io non sarà mica venuto per questo che cosa c'entra poi improvvisamente nel bel mezzo di una frase si sporse un po' in avanti verso di me batte con il palmo della mano sul mio tavolinetto e disse bene ora non ho più tempo devo andare via ed in quel momento esattamente in quell'istante in quella frazione di secondo successe non posso dire che cosa non posso spiegarvelo nemmeno oggi nemmeno dopo 45 anni conosco una spiegazione neanche mio marito in quell'istante lui si alzò ed io anche improvvisamente mi alzai e non avevo più dolori erano semplicemente scomparsi potevo stare perfettamente dritta come lo ero stata crescendo e come per un lungo anno non avevo più potuto stare da allora e sono trascorsi 45 anni non ho più avuto nessun disturbo d'ernia al disco da allora posso camminare senza nessun disturbo o fastidio fu una liberazione anche Adolf Groth era molto ammalato quando incontrò per la prima volta Bruno Gröning aveva un cancro allo stomaco ed era già stato definito senza speranze dai medici ecco cosa racconta molti anni dopo in un'intervista fatta a testimoni di quell'epoca la guerra ci aveva segnato la guerra ci aveva rovinato in tutti i sensi psicologicamente rovinati in guerra non si può essere delle persone normali eravamo delle iene una persona normale non può uccidere ma allora dovevamo o tu o io questa non è più una cosa normale la vita era appesa ad un filo d'erba e si ricerca qualcosa esattamente come quando si è al fronte si cerca un filo d'erba al quale ci si possa appigliare qualsiasi momento può essere la fine è terribile quando si vive qualcosa di simile e non c'è da meravigliarsi se ci siamo ammalati e se ci siamo ritrovati psicologicamente distrutti io stavo già con un piede nella fossa tanto ero ammalato volevo aiuto non potevo più mangiare né far niente come più tardi sono venuto a sapere il mio medico disse che avevo un cancro allo stomaco poi siamo andati là non ricordo più come sia esattamente successo dovevamo essere molte persone siamo andati là e fu una liberazione fu una liberazione per noi per tutti coloro che si trovavano là la sala era piena fu una liberazione per tutti fu come fossimo rinati ci sentivamo così leggeri la pesantezza uscì dai nostri corpi e in quel momento e anche dopo quando siamo ripartiti non eravamo più malati non avvertimmo più niente della malattia era scomparsa subito appena tornai a casa potei di nuovo mangiare e la malattia non tornò mai più semplicemente così questo avvenne grazie alla trasmissione delle forze di Groening le energie che lui emanava il corpo venne ricaricato e così ricominciò a funzionare energia libera si potrebbe dire e poi tutto poté funzionare normalmente e chi non ci vuole credere deve lasciar perdere ma la mia convinzione la mia fede quella non me la può togliere nessuno grazie a tutti 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 grazie a tutti